Domani è il primo maggio, la festa del lavoro, è una festa nazionale, lo è perché la giornata che celebra le lotte che durante i secoli i lavoratori hanno combattuto per poter vedere riconosciuti i propri diritti. Il concertone lo vedremo a casa, in tv, con tanti artisti nelle piazze affollate delle grandi città. Dai parchi di tutto il mondo, domani attori politici e sindacali, attivisti e personaggi della società civile racconteranno il senso di questa giornata. Ricorderanno le conquiste storiche che la lotta e l'unione dei lavoratori ha portato per garantire un ecosalario, un giusto orario e un'armonia tra il lavoro e lo stile di vita. Siamo in Sicilia, non possiamo dimenticare domani, primo maggio, le tante lotte e le tante umiliazioni. Nel 1893 è stato scritto a mano un contratto con i contadini siciliani. Sapete cosa hanno voluto scrivere i contadini nel contratto? Che il padrone doveva dare loro da bere un quarto di litro di vino? E poi aggiungero anche una nota in fondo al contratto. Per vino deve intendersi vino buono e non il vinello o vino guasto. E precisarono anche cosa si intendesse per minestra, perché sapevano che i padroni non rispettavano neanche bisogni più elementari. furono costituite i famosi patti di Corleone, che non avevano nulla di straordinario, perché stabilivano una mezzeria pura, ma per la prima volta i contadini divennero un soggetto politico. Da pietre e da oggetti diventavano quindi soggetti politici che dicevano al padrone se vuoi che vengo a lavorare nelle tue terre mi devi dare delle condizioni. Questa è una frase scritta dai racconti di schiavitù e lotta nelle campagne di Outwood Edizioni. Nacquero i fasci dei lavoratori che si distinzero anche le donne. I fasci siciliani furono tragicamente repressi dai mafiosi locali e dal governo nazionale. Si contarono a più di cento morti, diversi centinaia furono feriti e oltre 3.000 irringiusi nelle patrie galere. Il primo maggio del 1947 si tornava a festeggiare la festa dei lavoratori sospesa durante il ventennio fascista. Circa 2.000 contadini si riluviano in località Portella della Ginestra, una vallata vicino a Piana degli Albanesi per manifestare contro il latifondismo e a favore dell'occupazione delle terre incolte e per festeggiare la vittoria alle regionali del blocco del popolo con il 29% dei voti. Improvvisamente, improvvisamente, dalle raffiche di mitra di vita che perdurarono per circa un quarto d'ora stroncarono la vita di 11 persone e ne ferirono una trentina. È la strage di Portella della Ginestra. Alcuni morirono successivamente per la gravità delle ferite riportate. È stata la strage della banda di Salvatore Giuliano. E si potrebbe continuare a elencare anche altre battaglie. Oggi l'agricoltura lavorata dai contadini è rimasta povera. Nelle ultime settimane si sta discutendo molto della crisi delle filiere agricole. L'assenza di acqua, ma anche di lavoratori, rischia di mettere in ginocchio una filiera fondamentale, cioè quella del cibo. E così si scopre che quei lavoratori che arrivano da tutte le latitudini sono fondamentali al sistema agricolo e alla società intera. Come a Mazzara, i nordafricani lo sono per la pesca. Alla prossima!